Un vasto anticiclone continua ad interessare l'Europa centrale e gran parte del Mediterraneo, garantendo condizioni di stabilità almeno fino al prossimo lunedì. I sistemi perturbati atlantici scorrono al nord delle Alpi, interessando le isole britanniche e la Scandinavia. In Toscana, giovedì 12 novembre, cielo nuvoloso al mattino per la presenza di numbi basse, più consistenti in prossimità della costa, le foschie e nebbie nelle pianure e fondovalle dell'interno, in graduale dissolvimento nel corso della mattinata. Schiarite più ampie durante le ore centrali, con cielo nel complesso poco nuvoloso, sereno in montagna. Nuova formazione in serata e nottetempo di nebbie nel fondovalle dell'interno ed aumento di numbi basse in prossimità della costa. Venti deboli variabili, mari calmi e poco mossi, temperature in calo le minime, massime e stazionarie, un lieve aumento nelle pianure interne. Cielo poco nuvoloso o velato anche sulla nostra provincia. A Lucca nella piana, temperatura minima 9, massima 20 gradi. In Versiglie sul litorale, minima 12, massima 20. In Garfagnano e zone montane, minima 5, massima 18 gradi.